il Brescia che ospita il Modena per questa ultima partita del 2009 insegue una vittoria che manca dal 21 novembre contro il capolista Lecce inizia bene la squadra di Iachini con Caraccelo che impegna così Narciso sempre molto attento e puntuale il portiere del Modena Modena che prova ad agire di rimessa in contropiede guardate cosa si mangia Bruno a tu per tu con Arcari cerca di superarlo e bravissimo il portiere del Brescia a non tuffarsi e a vanificare così questa occasione la più grossa del primo tempo per la squadra di Apolloni Brescia che ci crede e prova ad attaccare con maggiore insistenza qui va vicino il gol con Possanzini il capitano mira l'angolo più lontano ma è bravo Narciso a evitare il peggio e a mettere in corner ancora il Modena in contropiede con Salvatore Bruno qui è Catellani, punta il difensore centrale del Brescia a De Maio lo salta a tu per tu con Arcari, ancora bravissimo il portiere del Brescia a non farsi superare si va a riposo sul punteggio di 0 a 0 la partita fatica a decollare nel secondo tempo ancora il Brescia guardate cosa para Narciso con un po' di fortuna il pallone di Caraccelo sul secondo palo e la grande parata del portiere del Modena Modena che va vicino al vantaggio con questa grande punizione di Bruno il pallone che però si stampa sul palo è fortunato in questa circostanza Arcari sempre agitato in panchina Iachini che si gioca molto in questa occasione dopo le critiche del presidente Corioni Brescia che sfiora ancora il gol con Possanzini Caraccelo e Lopez il tocco di Possanzini manda fuori i giri gli altri due il pallone finisce praticamente in curva il minuto decisivo è praticamente il 34esimo esce Possanzini entra Flachi il Brescia prima sfiora il gol con questo sinistro al volo di Flachi e poi qualche minuto dopo guardate l'assist di Bega la sforbiciata di Flachi un gol splendido il gol dell'1 a 0 finisce 1 a 0 per il Brescia tre punti pesantissimi è dolcissimo il panettone di Iachini amaro e pieno di canditi quello di Apolloni a me